Eeeh, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Alberto Oggi sono venuti in questa nuovissima serie di Minecraft Allora, come potete vedere qui sono alla, con la mia skin, adesso vi faccio vedere Ecco, guardate, guardate cosa c'è dietro alle mie spalle C'è una schitta, zo, infatti adesso vi capirete cosa faremo oggi Allora, vi spiego tutto Allora, oggi ragazzi, come potete vedere, eeeh Ho queste cose qua nell'inventario Perché adesso vi spiego Allora, continuamente questo ragazzo sarà il nostro zocco Quindi dobbiamo creare uno zocco, sarà una cosa bellissima Però va bene Allora, qui, questo che c'è qua, che ho adesso Vedete il mio, eeeh, riflesso, niente, ma fa niente Tipo noi se ci interagiamo con questo libro Che non dovrebbe succedere Allora, clicco, non mi metto, blocco, uso Ok, non ho capito, ma va bene Guido per la cura degli animali, scrivo da Ralfichi Ok Praticamente ci hanno detto che queste monete Ci saranno delle monete, tipo Si è ravagato un attimo il manco, vabbè Però, da quello che ho capito Ci sono questi tipi che dovrebbero vendere degli animali Oppure del cibo Oh, vediamo il venditore Infatti lui vende un uomo di albatros, oddio Tricheko Eeeh, solo il tricheko Solo questi due Prendiamo l'albatros Allora, diamo le 18 monete Allora, un attimo La metà è Tipo 18, quindi dovrebbe essere Così, ecco Eccolo qua Ragazzi, preso Uovo di albatros Oddio Vabbè, adesso comunque Dove andare anche a dare a dormire Se ho il letto Non ho il letto, dannazione Come cacchio faccio Perché dovrebbero arrivare i mostri Vabbè, penso che non arriveranno Quindi Comunque volevo neanche avvisare Che ragazzi sono quasi arrivati Ai 700 iscritti Quindi me ne fanno Iscrivetevi se non vi siete iscritti Mi raccomando Se ancora non l'avete fatto Allora Oi Ok E niente Oggi ragazzi iniziamo a costruire Prendiamo già i blocchi In creativa Che adesso vi faccio vedere Che blocchi utilizzeremo Ho abitato Prendiamoci il letto Perché raga Voglio dormire Di subito anche Ma subito Subito Io raga Il letto direi Tenderemo l'alimentare Così Così non ci fa troppo scomodo Diciamo Ok Allora Appettiamo Ecco qua Perfetto Abbiamo dormito Qui adesso Questo letto Perché carica il minecraft Vabbè Il dottoraga Me lo lascio lì Allora Prendiamo i blocchi Da questo Che ci serviranno Dunque Io ho deciso di prenderlo Praticamente Qui c'è anche della carne Però va bene Allora Diciamo tutto qua Ah comunque Dovremmo anche Prendere il cibo Per l'albatross Pachidermi Non è questo Allora Che cosa mangiano Gli albatross Allora Vi ho detto Un secondo Ehm Cibi Albatross Che cosa mangia L'albatross Non lo so cosa mangia Però va bene Allora Prendiamo l'erba E la continuiamo A fare Il tragitto con l'erba Perché così Ci è molto più comodo Ho ballato qualcosa Spero di no Continuiamo il tragitto Con l'erba In questo modo Aiuto Comunque ragazzi Ehm Martedì Uscire l'episodio Della vita in città 2 Che è il secondo episodio Non mancate A vederlo Perché ci tengo tanto Perché è una nuova serie Che ci tengo molto Però va bene Perché non pubblico in casa Ma va bene Allora Facciamo anche Per questo modo qua Anche qui ovviamente Perché Nel caso Non so perché Ma mi lagga un bel po' Il minecraft Non capisco perché Ma va bene Allora In questo modo Perfetto Io ancora direi Di continuare di avanzare Tipo Non so di quanti blocchi Ma di un bel po' Tipo Vedete Quanto abbiamo Dai Io direi Ancora 5 No 2 3 Andiamo con 3 Che direi Che c'è Comunque ragazzi Sto registrando questo video Il 20 Di febbraio E sono le 21 1.30 Avete capito bene Quando sto registrando Quindi sono un bel po' Pazzerello Però va bene Allora Aiuto Ragazzi Ho il computer Buggatissimo Ho il computer Buggato No Non mi dire Proprio adesso Adesso che devo registrare Il computer Buggato Fa niente Fa niente Allora Così direi che può bastare Quindi adesso raga Andiamo verso sinistra e destra A costruire E poi se cosa farete Facciamo le gabbie Allora Adesso vado anche a digitare Su google Che cos'è l'albatros Perché raga Io non lo conosco Sto animale Secondo me Ha origini sconosciute Però questo Non è Non è Pienamente sicuro Non sono sicuro Che di origini sconosciute Però penso che dovrebbe esistere Cioè Ovviamente che esiste Però Come dice un'aquila Carina lei Vabbè L'ho dato un colpo Scusami Non volevo darti il colpo Aquila Scusami Scusami Mi perdoni Vabbè Allora Ora andiamo a A vedere su google Cosa ci Cosa mangiano gli albatros Con le robe lì Allora Adesso Adesso il computer Perché Adesso di vedere È questo È un po' rotto Però Digito comunque le robe Allora Vado su google E digito Albatros Vediamo che cos'è Albatros Animale Allora Ah è un uccello Ok È una famiglia di uccelli Di mare Quindi ragazzi Questo abita nell'acqua Quindi devo prendere Dell'acqua Sono dei più volatili Più grandi Della terra Wow È addirittura L'albatro L'ulteratore L'uncia vivente Con l'apertura L'are Oddio Che brillata Ma io voglio vedere Che cosa mangia Allora Libra È il cibo Perché Cosa Allora Cosa Mangia L'albatro Non l'abbiamo visto Con questo uccello L'albatro Qualsiasi specie Sono dei cibi Grassi Deleosi Ah I pesci Ok Allora ragazzi Gli diamo del pesce Semplicemente del pesce Allora La cella La facciamo Qui Ovvero Prendiamo ancora Dell'erba Che ci serve Ci diamo ancora Con questo Qui Verticale Tipo così Va bene Ok ragazzi Spero che questa Servi vi piace Perché anche questa È una nuova serie Infatti questa qui La porterò Solo quando sono Dal computer Mettela La porterò Ogni martedì O un giovedì Quindi va bene Allora Tutututututu Stuck Così Comunque ragazzi Siamo quasi A 700 iscritti Quindi mi raccomando Iscritti Vi secondo Vi siete iscritti Allora Sto facendo Ti metterlo Sto mettendo 3 anni Ma va bene Allora Così Raga Durura molto Sto video Però Mi dispiace Ma dovete Guardarlo tutto Cioè Non siete obbligati A guardarlo tutto Però Io non faccio più domande Basta 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 Vi scombussolo Troppo Allora Così Così Stuck Stuck Ok Allora 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 Così va bene Direi che va bene Ok Mi like un po' Ma va bene Comunque adesso Decide di fare una cosa Mettiamo delle Recensioni Con le barre Questo qua Mi sembra Che utile Spero di sì Quindi va bene Ci vanno bene Comunque Vediamo come sono Carine Bellissime E qui mettiamo Queste qui Lo facciamo per tutto Il giro Ok In questo modo Vedrà che lo Upgraderò Questo Movente A presto E niente Questa è la sua gabbia Vedrà che è un po' Bruttina Quindi State calmi Allora L'entrata Direi di fare Un cancelletto Eccolo qua Prendiamo quello di betulla Che è quello che mi piace di più Che È più abbinato A questo E allora Va bene Così Comunque Io raga Non ci passo Qui Vedete Qui devo passare Forza da qui Allora Questa è la recensione Ovvero Adesso Facciamo l'acqua Perché ecco Questo uccello Vive nell'acqua Quindi facciamo così Dovamo bucare tutto Anzi Bucare Lo posso anche No Però Nell'alti Bisogna metterla Perché l'acqua Raga Un ventibordo Ci deve ovviamente Stare Quindi Ho sbagliato A fare così Però Il dentro Raga Dovamo toglierlo Purtroppo Il dentro Dovamo toglierlo Mettiamo anche Qui sotto La Vabbè La terra Ok togliamo Tutta l'erba Che c'è Dobbiamo fare Tipo una sorta Di coso Quadrato Tipo roba del genere E ok E ok E vabbè Prima Togliamo Ok in questo modo Non ho questo sbagliato Ok così va bene Poi quello che dobbiamo andare A fare adesso È fare questo Ovvero Così E Ricopriamo Tutto questo Di terra Posso anche Non farlo Però Raga lo devo Quindi per così Secondo me va bene Allora Così Direi che Ci può stare Raga mi piace Mi piace Com'idea Mi piace tantissimo Allora Così Così Dove ho messo l'erba Perché l'ho disirquivaggiata Perché l'avevo Ma vabbè Allora Così Ancora che non sono abituato A giocare dal computer Però Mi sto abituando Eh Ok Così Perfetto È tipo una Una piscinetta Devo dire Appunto Ora Prendiamo l'acqua Eccola qui Secchietto d'acqua E facciamo Sotto delle superfici Ovvero Qui 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 Ma raga In questa mozione Non è ninfee Che le le mettiamo Ninfee Oddio Carine Allora Non so perché qui c'è Un secchio Vabbè All'altra fighi me lo tengo Mettiamo delle ninfee Tipo qui 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 Mamma mia Che spettacolo Bellissimo Puoi Qui ci sono anche Delle piante Tipo Mettiamo anche Delle piante Qui attorno Che sono bellissime Tipo Mettiamo una palma Qua Guardate che carina Che è Bellissima La mettiamo Anche qua Dentro Se possiamo Dentro No Va bene La mettiamo Solo attorno Qua Decoriamo anche Venti anche un po' L'azzo con Delle piantine Quelle sono Veramente belle Comunque sta per diventare Notte di nuovo Dai basta Questa notte Ti prego Google Che conclura molto Sto video Però Vabbè E niente Tipo delle rocce Rocce ci sono Rocce Rocce di fondo C'è questa Che possiamo mettere Nel fondo Della piscina Non è una piscina È una vasca Sembra bedrock L'avete un po' Sparsa da tutte le parti Un po' sparsa da tutte le parti Ci può anche stare Ok ragazzi Aspettate che adesso Dormiamo È una cosa che dovremmo Assolutamente fare Ok Raga Sapete che Mi piace Mi piace tantissimo Dove è il letto Che ho preso Ok qui Perfetto Subito a dormire Vai Perfetto Mamma mia Che bella La modalità Mamma mia Che bella È bellissima Carina Ragazzi Sto dormendo Anche l'aquila No Che figata Si è svegliata No Vabbè Lasciamola dormire Allora Ok ragazzi Quindi adesso È il momento Di spawnare L'albatross Mamma mia Come sono contento È bellissimo Comunque ragazzi Detemi Così nei commenti Come devo arredarla Più meglio Oppure Vabbè Quelle robe lì Ok ragazzi È il momento È il momento Spawniamo l'albatross 3 2 1 Oh mio dio No 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 raga Che carino No 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 Sono carini No raga Sono tenenissimi Ovviamente Qui No raga Qui mettiamo Una cesta Tipo cassa Si chiama cassa Anzi Si chiama baule Eccolo Prendiamo un baule Eccolo E ci mettiamo Il cibo Pesce 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 palla Pesce palla Pesce pagliaccio Fish C'è Fish Eccolo Eccolo Proviamo con l'uovo E li prendiamo un bel po' Tipo ne prendiamo 20 Ora facciamo anche La ricarica Prendiamone 31 E li mettiamo Dentro la cesta Tipo un po' qui Un po' qui Ecco Tipo un po' qui Ecco qua Mamma che spettacolo Raga Ok Fatto Prendiamo anche Un cartello Eccolo Cartello E ci scriviamo Una cosa Ci scriviamo Cibo Per Nutrire Gli albatross Ci vuoi per nutrire Ok No raga Gli albatross Sono scappati Raga Sono scappati Gli albatross Non ci credo No Quindi Non mi dire Che devo Comprare l'uovo No raga Tragedia Ho un'idea Prendiamo sempre La recensione No Diamine Raga Diamine Diamine Ok ragazzi Purtroppo Il video Finisce qua Tanto perché Tanto Non posso più Perché Si sta fermando Il video Niente Spero che vi sia piaciuto Finirò da solo Come costruire meglio Questa cosa E niente Comunque Il video Finisce qua Spero che vi sia piaciuto Se volete un altro episodio Scrivetelo nei commenti E niente ragazzi Da Alberto è tutto E ci vediamo Dom Niente Ci vediamo prossimamente Con un nuovo video Ciao 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 a tutti